ciao benvenuti sul mio canale la francia ti aspetta il mio canale è nuovo e recente e neonato io non so montare i video probabilmente imparerò a farlo piano piano però voglio continuare comunque a fare dei video e dei contenuti nei quali do delle dritte pratiche agli italiani che pensano di andare a vivere in francia e anche a quelli che perché no ci vivono già ma i miei consigli si indirizzano soprattutto a chi sta pensando in questo periodo di andare a vivere all'estero e cerca delle informazioni in particolare io vi parlo di francia perché ci vivo da parecchi anni oggi vorrei parlare di un tema che è abbastanza ricorrente tra le domande degli italiani che vogliono andare a vivere in francia cioè si può vivere in francia senza parlare il francese si può vivere lavorare in francia con un livello molto basso di francese come si vive in francia senza parlare il francese io posso rispondere a quest'ultima domanda che in francia senza parlare il francese si vive non dico male ma si vive comunque tra le complicazioni e le difficoltà il che è abbastanza normale il francese la lingua che si parla in francia sarebbe strano aspettarsi che le cose vadano diversamente ma bisogna anche aggiungere altri aspetti secondo me da tenere in conto il primo è che i francesi non hanno in media chissà che livello in inglese di inglese cosa che riguarda in realtà anche gli italiani quindi francia italia forse anche spagna se la giocano nelle classifiche europee sul livello di lingua inglese sempre agli ultimi posti quindi non c'è questo gran livello d'inglese se contate su quello per comunicare a parte magari in zone turistiche potreste trovarvi in difficoltà c'è poi anche un fatto di un fattore di apertura mentale e di voglia di capire gli stranieri e di comunicare con loro senza offendere nessuno io direi che i francesi in media non sono molto aperti e disponibili a capire persone che parlano altre lingue che parlano francese male che fanno errori anche che parlano con accenti stranieri più o meno forti cioè questa grande apertura mentale non c'è spero di non offendere nessuno nel dirlo io ho vissuto anche in belgio in svizzera francese paesi dove ho riscontrato che invece c'era un pochino più di flessibilità anche nel capire uno straniero e comunque nel capire che magari il livello di francese di una persona che non era nata nello stesso paese poteva essere basso e che la persona poteva avere difficoltà quindi se in belgio in svizzera ho notato questa flessibilità maggiore in francia trovo che non si facciano granché degli sconti agli stranieri che non capiscono e che non e che non sanno parlare quindi per questi già per questi due motivi conviene parlare il francese ed è molto importante ripassarlo studiarlo prima di venire a vivere in francia almeno un pochino e poi ovviamente gli altri motivi per cui è utile saperlo riguardano innanzitutto il lavoro cioè se si parla francese è molto più facile trovare lavoro qualunque tipo di lavoro è preciso che anche se in organismi grosse aziende internazionali magari la lingua di lavoro è l'inglese il francese vi faciliterà comunque tantissimo tantissimo la vita sarà un fattore positivo conoscerlo mentre per quanto riguarda piccole e medie imprese sinceramente senza il francese trovo veramente molto molto difficile riuscire a riuscire a trovare lavoro in maniera rapida efficace e riuscire ad avere magari anche un lavoro qualificato perché lo scopo appunto quando ci si trasferisce all'estero non deve per forza essere fare un lavoro a caso ma anche magari fare il lavoro per cui abbiamo studiato e per cui ci siamo qualificati in italia quindi sicuramente per il lavoro è essenziale avere un buon livello di francese ma poi è essenziale anche per tutto ciò che pubblica amministrazione e vi assicuro che in francia troverete mille cose burocratiche da fare come come in ogni paese quando quando si ricomincia la propria vita diciamo da zero di pratiche burocratiche ne avrete mille da fare assicurazione sanitaria aprire un conto in banca tutti i documenti legati al domicilio eventualmente iscriversi all'aerea potrei elencarne decine di cose da fare si fanno tutte in francese non si può sperare di farle in altre lingue o di andare in posta e trovarsi l'impiegata che ci parla in inglese questo neanche in italia succede e nemmeno in francia succede tutto ciò che è vita pratica contattare un idraulico perché abbiamo un tubo che perde a casa su questo su alcuni gruppi di expat in gruppi in inglese con con dentro americani e inglesi ho visto più volte apparire la domanda questa richiesta questa ricerca disperata del english speaking plumber a lione questo questo idraulico che parlerebbe inglese che probabilmente non esiste almeno a lione non sembra non esistere insomma ogni volta che vedo questa domanda questo tipo di domande mi dico caspita per persone che magari vivono in francia da anni sarebbe forse più utile aver imparato in francese come dire spiegare all'idraulico che si è inceppato lo sciacquone del water rispetto ad aspettarsi che sia l'idraulico stesso a parlare la tua lingua quindi l'inglese piccolo esempio però sono cose pratiche quotidiane che capitano capitano capita di avere la macchina in panna e dover andare dal meccanico capita di dover vedere un medico a volte i medici parlano parlano inglese ma non sempre ed è comunque utile potersi spiegare in francese ecco tutte queste cose pratiche si fanno in francese e l'ultimo motivo però importantissimo anche questo secondo me sapere francese permette di godersi davvero la vita in francia e di integrarsi appieno quindi non soltanto di sbrigare le noiosissime faccende burocratiche non soltanto di chiamare il medico non soltanto di parlare con l'idraulico ma anche di andare a teatro di iscriversi a un'associazione di volontariato con altri membri che sono francesi di fare sport insieme a dei francesi giocare a calcetto ad esempio una volta a settimana insomma aiutare i figli a fare i compiti ci sono una serie di cose che sono necessarie per integrarsi e per poterle fare è veramente importante avere un livello almeno base di francese in altri video spiegherò quali sono i mille modi con cui oggi possiamo imparare il francese perché ovviamente ce ne sono mille e siamo molto fortunati al giorno d'oggi ad averli tutti a disposizione per oggi è tutto ciao ciao